Per ottenere grandi risultati nella vita dobbiamo fare drastici cambiamenti nelle nostre abitudini, ma è proprio vero? Salve a tutti, Marco Casario qui e forse c'è una formula che permette invece di fare piccoli cambiamenti nella nostra vita, creare piccole abitudini che ci permettono di ottenere nel lungo termine cambiamenti enormi all'interno della nostra vita. Ed è proprio questo il messaggio che vuole mandare un libro molto interessante tra i tanti che ho letto sulle abitudini, si chiama Atomic Habits, è scritto da James Clear, è anche tradotto in italiano quindi lo trovate tranquillamente, magari vi metto il link di Amazon qui sotto nel campo descrizione. Ho cercato di darvi un po' una sintesi in questo video sulle regole e sul framework composto da quattro regole per creare abitudini di successo che in questo libro vengono insegnate, poi magari vi racconterò anche un po' delle mie esperienze, degli ostacoli che ho dovuto affrontare per cercare di fare effettivamente dei cambiamenti. L'obiettivo del libro qual è? È quello ovviamente di creare abitudini che sono buone, buone che cosa vuol dire? Che ci portano ai risultati che vogliamo ottenere e eliminare, rompere, interrompere le vecchie cattive abitudini. Già vi dico che per far questo dobbiamo da una parte ridurre gli ostacoli che ci permettono più facilmente di creare le buone abitudini e invece aumentare gli ostacoli per ridurre e rompere le vecchie cattive abitudini. Cosa si intende per ostacoli? Immaginate che dovete mettervi a dieta, ok? Porto sempre questo esempio della dieta non perché sono fissato, o meglio perché sono fissato con la dieta effettivamente, sto a dieta da quando avevo 16 anni. Infatti il mio metabolismo non mi permette di bruciare velocemente, tende ad ingrassare quando mangio, probabilmente sicuramente le cose sbagliate, ma da quando ho 16 anni sono molto attento alla mia alimentazione. Ed è molto più facile, se volete creare l'abitudine di mangiare meglio e stare attenti al vostro peso, è molto più facile raggiungere quell'obiettivo rimuovendo l'ostacolo, ovvero per esempio non avendo in casa sozzerie, non avendo in casa patatine, non avendo in casa la nutella, ma avendo in casa solo cibi sani, ok? Che vi aiutano nell'obiettivo che dovete raggiungere. Questo si intende per ridurre o aumentare gli ostacoli. Ma veniamo alle regole più importanti che ci vengono insegnate nel libro. Prima regola, la regola dell'1%. La regola dell'1% consiste nel individuare, nel creare piccoli cambiamenti all'interno della nostra vita. Quello che James Clear nel libro infatti ci dice riguardo i piccoli cambiamenti è che piccoli cambiamenti generano nel tempo, esattamente come fa l'interesse composto in finanza, tante volte ne abbiamo parlato in questo canale, di automigliorarsi. Piccoli cambiamenti, piccoli automiglioramenti che però nel tempo aumentano in maniera esponenziale. Perché, e questo anche lo dice James Clear nel libro, il tempo amplifica il margine tra successo e fallimento. Quindi questo vuol dire che nel lungo termine, se avete creato e state creando piccoli cambiamenti con buone abitudini, potete ottenere un successo enorme, ma è valido anche il contrario. Cioè il tempo e le cattive abitudini portate avanti giorno dopo giorno, nel lungo periodo, vi porteranno a grandi fallimenti. Quindi ricordate sempre bene, purtroppo noi esseri umani siamo estremamente concentrati sul breve termine, ok? Ecco perché è tutto così difficile, perché vogliamo ottenere subito risultati. Fisico, dieta, andare in palestra, voglio ottenere risultati domani. Oggi peso X, domani voglio pesare X meno uno perché magari ho mangiato una barretta di cioccolato in meno, perché magari ho fatto un'ora e mezza in palestra. Ed è questo rapportare l'obiettivo della vostra abitudine ad un orizzonte temporale così breve termine che alla fine ci fa gettare la spugna, perché per certe cose i risultati arrivano, ma serve tempo. E più tempo diamo alla nostra abitudine di potersi sviluppare e di poter impattare nella nostra vita, maggiore sarà il risultato che otterremo. Questo è veramente validissimo nel campo finanziario, nel trading e negli investimenti. In questo canale parliamo di personal finance, di finanza personale, parliamo di finanza, economia, macroeconomia, trading ed investimenti. E lì è ancora più cruciale. Uno dei motivi per cui la maggior parte dei trader perde soldi è perché vuole ottenere risultati velocemente. Perché pensa che dopo aver studiato due giorni, aver fatto un corso da due giorni il weekend, aver letto un libro, è pronto per affrontare i mercati, capirne le dinamiche. Non solo è pronto dal punto di vista della conoscenza e dal punto di vista delle tecniche, ma deve anche diventare ricco in poco tempo. Ecco, purtroppo, quella è la ricetta per l'autodistruzione. Volere un risultato nel breve termine piuttosto che aspettare e lasciare che l'interesse composto faccia il suo lavoro. Seconda regola, ragazzi, del libro è quella di non concentrarsi sugli obiettivi, ma concentrarsi sul processo o sul sistema, come lo chiama l'autore del libro. Questo è molto interessante perché io, per esempio, sono una persona estremamente, diciamo, guidata dagli obiettivi. So quali sono i miei obiettivi, me li pongo e so che li devo uno dopo l'altro, ci devo arrivare, me lo posso gettare dietro le spalle e posso guardare al prossimo obiettivo. Ma è molto interessante la dichiarazione che fa James Crear nel libro. Perché? Di cosa vuol dire non concentrarsi sull'obiettivo, ma sul processo? Perché l'obiettivo è qualcosa che termina. Non so se vi è mai capitato nella vita di porvi un obiettivo, dove magari potrebbe essere l'esame universitario, potrebbe essere trovare un lavoro, potrebbe essere qualsiasi tipo di obiettivo. Raggiungere un certo conto in banca che vi fa stare più tranquilli, quindi risparmiare più soldi. E una volta raggiunto sapete più quello che dovete fare. Quindi adesso non tutti sanno che quando si sta arrivando vicino ad un obiettivo, quello che bisogna fare immediatamente è pensare e fissare il prossimo obiettivo. E invece lavorare, concentrarsi sul creare un processo, creare un sistema che ci faccia raggiungere gli obiettivi, quindi l'obiettivo è secondario rispetto al processo. Il processo è fondamentale perché il processo una volta che è creato è ripetibile. Lo possiamo applicare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, all'infinito, durante la nostra, tutto il percorso della nostra vita. Questo è uno switch mentale importante, sembra banale, ma non lo è affatto. E vi dico la verità, alla fine della fiera, the end of the day, come dicono gli americani, è molto più interessante il percorso che ti porta al raggiungimento dell'obiettivo più che l'obiettivo stesso. Bisogna fare le cose perché ci piace farle. E di nuovo qui, lasciatemi portare questo esempio. Se io mi fossi concentrato, quando ho iniziato a fare trading e investimenti 20 anni fa, quasi ormai, mi fossi concentrato esclusivamente sul guadagno, ok? Voglio diventare ricco, devo diventare ricco, devo avere un milione e mezzo in banca fatto, generato col trading e con gli investimenti. E quindi avessi rivolto le mie energie, tutte quante, su quel numero. E ogni giorno lì a guardare il conto in banca, ogni giorno a guardare l'account di trading e vedere il profit and loss, vedere la mia equiti. Oggi a quanto sto? X. Domani a quanto sto? X più 1. Dopodomani a quanto sto? X meno 3. Cavolo, e allora ci buttiamo giù. È inutile concentrarsi su quello. Perché invece è molto più duratura e di lungo termine. Concentrarci sul cammino, sul processo per arrivare a quell'obiettivo. Gli obiettivi, se abbiamo un sistema, se abbiamo un processo, gli obiettivi arriveranno. Gli obiettivi li inanelleremo uno dopo l'altro. È importantissimo, questo nello sport anche è importante. Non è che alla fine di una partita di calcio, di una partita di basket, di tennis, è il punteggio quello che conta. Ma questo non vuol dire che i giocatori stanno lì tutto il tempo per 90 minuti per i vari set dell'incontro di tennis a guardare il tabellone. No, non è che con il pensiero cambi il risultato. Con le azioni cambi il risultato. Con la strategia, con la tattica, quindi col processo, cambi il risultato. Questo è assolutamente importante. E veniamo un po' alla pratica. Come si crea un'abitudine? James Clear ci dà un framework di quattro leggi, ok? I quattro regole, chiamatele come volete. Ve le dico in inglese, io l'ho letto in inglese, il libro magari nella traduzione italiano le troverete scritte in un altro modo, dove il concetto non cambia, Q, Craving, Response e Reward. La prima è la Q, C-U-E. Che cosa vuol dire? Vuol dire di disegnare l'ambiente che ti circonda, predisporlo per aiutarti nel creare la tua abitudine. O viceversa, nel abbandonare le tue vecchie abitudini. Era l'esempio che vi facevo prima nella dieta. Se voi a casa non avete cibi spazzatura, sarà molto più difficile mangiarli. Se voi dovete imparare un nuovo strumento e lo strumento ve lo mettete vicino alla vostra scrivania o vicino a dove vi trovate e spendete la maggior parte del tempo, ve la portate in ufficio, sarà più facile prenderlo di tanto in tanto, prendere la chitarra in mano e esercitarvi. Quindi, importante creare l'ambiente. La prima legge. Seconda legge, Craving. Che vuol dire, dietro al concetto c'è, rendila appetibile. Deve essere divertente. Deve essere qualcosa che, nel momento in cui la creiamo, la pensiamo e la strutturiamo, la nostra abitudine, deve aiutare a rafforzare la motivazione che ci porterà giorno dopo giorno a ripeterla. Importante. Terzo, Response. Rendila semplice. È quello di cui parlavo proprio all'inizio del video, quando vi dicevo ridurre gli ostacoli o aumentare gli ostacoli, se dovete interrompere una pessima abitudine. Ma renderla semplice vi aiuterà a, dopo aver creato il sistema e dopo aver creato il click mentale e che quel sistema ve lo fa applicare, fate in modo che non ci siano ostacoli, che vada tutto quanto liscio nel vostro percorso. Quarto, Reward. Avere, generare delle ricompense di breve termine per aiutare il cervello a creare quel meccanismo. Ho fatto l'azione, ricevo la ricompensa. E qui ci sono tanti esempi che potrei farvi, ma secondo me quello che vale la pena sottolineare in questa quarta legge è non darti la ricompensa quando l'obiettivo l'hai raggiunto. Perché a volte per raggiungere un obiettivo ci vogliono mesi, a volte ci vogliono anni. Immaginate che l'obiettivo è un obiettivo di lungo termine, la libertà finanziaria. Non so quanti anni ci possono volere, due, tre, cinque, dieci, quindici, c'è chi metterà di più, c'è chi ci metterà di meno a seconda del percorso, del processo che avrà scelto e che avrà selezionato. E mettere una ricompensa alla fine non aiuta la parte di ripetizione, non aiuta la motivazione, non aiuta a rimanere motivati. Invece creare piccole reward ogni volta che viene fatta, applicata quella abitudine. Non so, immaginate, torniamo alla dieta, è la cosa che mi viene, la metafora che mi viene più facile. Quindi dopo una giornata in cui siete riusciti a fare esercizio, a mangiare bene, magari la sera vi premiate facendo qualcosa che vi piace fare. Dieci minuti alla PlayStation, venti minuti leggo un libro, oppure me ne vado in sauna. Quindi datevi subito un premio, perché questo aiuta il cervello a rendervi più motivati su quell'abitudine. Insomma ragazzi, per concludere, sono molto interessanti i concetti che vengono toccati all'interno del libro, perché ci danno una prospettiva diversa. È quella di non dover cambiare drasticamente tutta la nostra vita. A volte si dice, ok, se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi devi cambiare paese, devi cambiare la tua cerchia sociale, devi cambiare cose drastiche, importanti, difficili nella tua vita. E invece questo libro ribalta questo approccio dicendo, comincia a cambiare piccole abitudini, la regola dell'1%. E nel lungo termine, usando l'interesse composto, questi piccoli cambiamenti applicati giorno dopo giorno, porteranno tra un anno, due anni, cinque anni, dieci anni, vi porteranno a enormi risultati. Io quindi vi auguro una vita fantastica, vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi, ma soprattutto vi auguro di divertirvi nel processo, nel sistema che creerete per raggiungere i vostri successi, i vostri obiettivi. Perché il viaggio, secondo me, è quello che vi renderà più felici, soprattutto quando vi porterà il risultato finale. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!